Ciao a tutti, sono Leonardo Galeotti, dell'Iceo Classico Andrea da Ponte d'Era, che si trova in Toscana. Sono qui un po' per raccontarvi le mie esperienze avute durante il premio Asimov. E cosa è stato il premio Asimov per me? Premettendo che non sono partito proprio con il piatto giustissimo, perché avevo anche paura di mettermi a leggere un libro che parlava di argomenti di scienza, di fisica, di macchine, di robot, di algoritmi. Non erano argomenti per me, erano questi cinque libri, dei libri che io non mi sarei mai scelto in libreria. Il mio genere classico è il fantasy, fantascienza, ma un saggio di scienze no, proprio non era, non era proprio il mio genere. Ma trovandomi davanti a una scelta limitata dei libri, ho scelto un libro che mi ispirava di più. Ho scelto appunto Hello World di Anna Frye, e è un libro che mi ha dato tanto, devo essere sincero. Mi sono reso conto leggendolo che io non mi ponevo determinate domande, che secondo me tutti dovrebbero porsi. Come per esempio, cos'è un algoritmo, cos'è una macchina, come agiscono le macchine, come nascono, come le creiamo, come ci salvano la vita. E come a volte invece ce la complicano. E queste domande secondo me sono delle domande base proprio. Quindi dovrei ringraziare il premio Asimov, perché il premio Asimov mi ha sbloccato in un certo senso. Mi ha sbloccato in determinati punti, nei miei limiti di lettura che io avevo e che ora non ho più, perché quando andrò in libreria mi informerò sempre su saggi di scienze, perché forse sarà stato anche dato dal libro e dall'autrice, che si esprimeva con un lessico veramente molto semplice e aperto. E insomma, sono andato oltre i miei limiti, quindi per questo devo ringraziare il premio Asimov, davvero. Mi ha fatto capire tante cose, anche di me stesso. Quindi davvero, grazie a tutti e vi saluto. Ciao!